Il vino soddisfa anche l'occhio e non solo il palato, l'etichetta di Alava con l'arte in un crescendo fino al momento di riempire il calice. Il riconoscimento miglior etichetta packaging a casa vinicola Antonutti, prosecco doc, sfumante extra dry. Condividere il meglio della produzione vinicola con più persone possibili, un giusto equilibrio ottenuto in maniera sapiente. Il riconoscimento per il miglior rapporto qualità prezzo a 4 cantine. Covered cantina di vertiolo, covered prosecco doc extra dry. Ribolla gialla extra dry. USQ, MC e mica in argento frutto. Unire la minella che ha storia del vino anche c'è nell'innovazione. Il giovane in cantina, storia che dal passato arriva al futuro. Il riconoscimento per il titolare Under 30 all'azienda agricola Alessio Gris. Le pollicine che in tutto il mondo ci invigliano, capaci di raccontare in chiave moderna la nostra terra a persone e luoghi lontani. Il premio per il metodo Cermat Prosecco Doc, al vino spumante Prosecco Doc extra dry, presentato da Forkir Viticordorin Friuli. Quando il titigno si valorizza nella bottiglia, è l'orgoglio di un territorio e della sua storia riempie i calici. Il premio per il metodo Cermat spumante monoparitale, al vino spumante bolla gialla brut, presentato da Azienda Agricola Terre Rosse. Unire i frutti della vigna, per realizzare con sapienza una nuova scintilla, che affascina fin dal momento in cui è versata nel calice. Il premio per il metodo Cermat Cuvé, al vino spumante Tamano Brut, numero uno, presentato da Azienda Agricola Alessio Gris. Un risultato ottenuto con grande pazienza, la quale però è nulla senza l'amore per il proprio mestiere in cantina, vendegna dopo vendegna. Il premio per il metodo classico al vino spumante VSQMC, etichetta argento brut, presentato da Vigneti Pietro Pindaro. Grazie.